Una delle operazioni più importanti quest'anno di Coseva è stato l'acquisto del ramo d'azienda della cooperativa Monviso. Lei è una delle rappresentanti di questa cooperativa, a questo punto è entrata a far parte di questa grande famiglia. Sì, sono stata dieci anni in cooperativa Monviso e dopodiché sono passata alla Coseva. Diciamo che c'è una certa differenza gestionale. Prima era una cooperativa più familiare, adesso mi sento di far parte di una grande azienda e sono molto onorata e riconoscente. Oggi una bella esperienza anche come Presidente dell'Assemblea. Assolutamente sì, diciamo che la mia prima Assemblea Soci me la ricorderò e la porterò negli annuali. Oggi credo che abbia avuto la sensazione anche dalle premiazioni da questa serata che sta per cominciare che questa è una grande famiglia anche se è una grande cooperativa. Sì, ne avevo già avuto alcuni cenni in precedenza, ora non posso che confermarlo. Sono molto contenta di far parte di questa grande famiglia anche io.